Bella a tutti ragazzi, qui è Iceman e benvenuti in questo nuovo commentary. Oggi sarà solo ed è un nuovo commentary di FIFA per una nuova serie che ho deciso di iniziare, purtroppo ho deciso di iniziare alla fine di FIFA 12, ma vabbè, quando arriverà FIFA 13 la cominceremo anche lì se sarà presente la stagione testa a testa o sicuramente comincerò la serie dell'ultimo team, di come procedere verso l'ultimo team. Questa serie è definita Road 2 Division 1, la fanno alcuni youtuber inglesi che conosco, e niente, si cerca di arrivare alla divisione 1 e sto cercando di farlo con il minore numero possibile di sconfitte. Qui, questo è il primo goal, vabbè, questi goal sono goal che io odio, diciamo, quando mi fanno contro, ma diciamo che non faccio sempre quel così, li faccio quando o per sbloccare il ponteggio, o se sto perdendo tipo 3-0 per recuperare, però vedete poi Ronaldo si fa tutta la fascia, arriva qua sotto e fa un pallonetto. Vabbè, niente, comunque, sono solo perché Jammy è in crociera, si è fatta la sua vacanza finalmente a settembre, e quindi sarò solo e caricherò solo io in questa settimana o due settimane, e quindi chiedetemi anche voi, Minecraft sicuramente non posso farlo perché non so giocarci e non mi piace, però se volete, se proprio volete, potrei fare League of Legends, ma non volete voi. Quindi o FIFA o COD lo caricherò in questa settimana, e soprattutto ditemi se questa serie, diciamo, vi piace, se vi piacerebbe vederla all'uscita di FIFA 13, perché comunque ho già appena usato FIFA 13, e quindi appena arriverà comincerò subito col fare video, 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 e Black Ops 2 uscirà comunque dopo un mese, quindi fare video di Modern Warfare 3 o di FIFA 13 preferirei soprattutto farli di Modern Warfare 3. Allora, di cosa possiamo parlare in questo nuovo commento? Allora, prima di tutto, possiamo cominciare a dire che ho una sfiga tremenda io, vedrete più palli in questo video. Allora, in pratica, io ho ritagliato le mie reazioni e soprattutto tutti i gol, e poi qualche azione, qualche palo, di tre partite che ho giocato, che non saprete mai come andranno a finire, quindi vedete tutto il commentary. Quindi, cioè, in pratica per farvi vedere un po' come gioco, un po' per aiutarvi, diciamo, posso aiutarvi a dire come usare, le proprie squadre, perché, mentre nel Road to Glory, ovvero quella dell'Ultima Team, è più facile, diciamo, parlare, perché io lì vi consiglierò quali acquisti fare, spendendo poco e avendo un gran giocatore, perché, poiché sono abbastanza esperto comunque dell'Ultima Team, ci gioco da anni e vedo sempre video su YouTube, quindi posso anche dirvi i pareri di altri YouTubers, mentre qui è un po' più difficile, perché si tratta di squadre online, però posso dirvi un po' come usare le squadre. Allora, il Real Madrid, per quella partita che ho usato ora, diciamo che va usato, va cambiata la formazione, e va giocata con le due punte, potete usare il 4-1-2-1-2, il 4-2-2-2, qualunque, basta che abbia due punte, perché Ronaldo e Benzema, e mettete Ronaldo come punte non sulla fascia, perché Ronaldo e Benzema sono due punte velocissime, e abbastanza forti da vicino, come ben sapete, e riescono, riuscite a fare degli 1-2 molto veloci, e superare i difensori velocemente, e al 99% segnare quando siete davanti al portiere. Qui invece ci troviamo alla seconda partita, dopo che la Rui è stata vinta, con il Bayern Mono, e il Bayern Mono è una squadra che amo, ecco, ho preso la maggior parte delle volte, perché non va affatto la formazione, quindi quando mi scoccio, quando ho, diciamo, relativamente poco tempo, non ho quei 3-4 minuti per fare una formazione buona, per esempio il Bayern Mono, che non va toccata la formazione assolutamente, perché gioca con la unica punta Gomez, che va benissima, e con Müller, che vedete, riesce a fare comunque inserimenti ai suoi due gol a partita, se sapete usarlo, quindi vi consiglio di usarlo, senza toccare la formazione. E, niente, allora, per quanto riguarda, cambiando un attimo l'argomento, perché non si può parlare 10 minuti di più, ma non so avrei cosa dire, per quanto riguarda Call of Duty, cioè, non Call of Duty, il nostro canale in generale, siamo un po' delusi, diciamo, perché prima dell'estate riusciremmo ad avere 200, 300, 400, 500, 600 visualizzazioni ai nostri video, ora sono 100, 110, a stento, e c'era prima un po' la scusante dell'estate, ma adesso è 4 settembre, è il nostro ultimo video, comunque ho avuto 120 visualizzazioni, e al 4 settembre, credo, siano davvero pochi quelli che sono in vacanza, di certo non saranno 250 persone, quindi credo che la maggior parte degli iscritti si sia stancata forse di vedere, o si è iscritta solo per farci un favore, se hai visto i primi video e poi se ne è andata, o non so, tutti gli iscritti sono iscritti e poi hanno cambiato account, e quindi non posso risalizzarlo più, però ci stiamo un po' deprimendo, va per questo inizio di settembre, ce l'aspettavamo un po' più movimentato, movimentato come questo tacco che smarca Robben, che però la spazza fuori, e vabbè, e niente, per quanto riguarda FIFA 13, vabbè, a parte, come ho già detto, l'ultimo team, vi consiglio, se voi lo volete acquistare, di acquistarlo, o da GameStop, o da Saturn, o da MediaWorld, MediaWorld non so che offerta fa, però io l'ho acquistato da Saturn, Saturn fa un'offerta eccellente, vi dà una lista di, di, di più o meno, 40 giochi per PlayStation, 40 per Xbox, 6 della PlayStation Vita, e 6 del Nintendo 3DS, allora, in pratica portando due giochi, su questa lista, voi avrete FIFA 13 gratis, e io, porterò, Battlefield 3, che ho comprato, un poco di tempo fa, poiché, non mi piace proprio, non è, il genere di gioco fatto per me, quindi, comunque stavo pensando a diventarlo, a questo punto lo porto a loro, e porto Call of Duty Black Ops, allora, io, ci tengo alla collezione di Call of Duty, visto che ho il 4, il 6, cioè, c'è Call of Duty 4, poi c'è la Modern Warfare 2, Black Ops, e Modern Warfare 3, mi manca, Call of Duty 5, World of War, ma non lo compro, perché non mi piace assolutamente, però in un futuro, per una collezione, lo posso comprare, e Black Ops, visto che ci tengo alla collezione, una volta che porterò, Black Ops e, Battlefield 3, al Saturn, e avrò FIFA 13, poi tra un mese, due mesi, quando Black Ops, dopo Black Ops 2, scenderà sicuramente, sui 20, 30 euro, online, anche a 15 euro, la ricomprerò per farmi la collezione, quindi anche voi, se avete, Black Ops, non so, Battlefield 3, o anche Mother of Warfare 3, però è difficile, comunque, credo vi servirebbe, portateli, e pensate, come ho pensato io, che fra due o tre mesi, questi giochi scenderanno, quindi se proprio li rivolete, per una collezione, perché parliamoci chiaro, è difficile, che io andrò a rigiocare, a Call of Duty Black Ops, però, può sempre servire, ed è sempre bello averlo, invece, GameStop, fa un'offerta, di FIFA 12, se porti FIFA 12, c'è una super valutazione, quindi portando FIFA 12, FIFA 13, lo pagherete intorno ai 40 euro, comunque è buono, perché, vi liberate di FIFA 12, che, quello sicuro, non toccherete mai più, perché FIFA, vecchi, si sa, non si gioca più, e, invece, potete portare due giochi, ed avere, FIFA 13 a 20 euro, più, 24 bustine dell'ultima team, più una maglietta, più, un pacchetto, che costa 30 euro, che sarebbe una squadra, della Galatas team, è un'offerta molto buona, però, il problema è che, FIFA 12, è strano che lo accettino, però lo accettano, quindi, non so perché, il problema, sorge, dove non accettano Call of Duty Black Ops, non accettano Battlefield 3, non accettano niente, accettano solo, altri giochi, che sono, nuovissimi, e, quindi, dovrei portare, modo di Battlefield 3, ma, non è cosa, anche se, mi avrebbero fatto, gola, quelle 24 bustine d'oro, dell'ultima team, però, preferisco, diciamo, spendere zero, ed avere FIFA 13 da Saturn, senza bustine, perché poi, me lo devo costruire io, l'ultima team, e, l'offerta di Saturn, è valida, fino al 9 settembre, non so, quella di, di GameStop, la quella di Saturn, fino al 9 settembre, quindi, se io credo di caricare questo video, ho il 4, il 5 settembre, quindi, appena lo vedrete, se ancora non lo avete acquistato, fate una corsa, al vostro Saturn più vicino, se lo avete, se, se, perché abita a Napoli, c'è quello lì, vicino alla stazione, facile da raggiungere, e, quindi, davvero vi consiglio, di comprare da loro, niente, questa è la terza partita, dopo due vinte, e, qui è un altro palo, vabbè, credo, avete visti già altri, parto subito, diciamo, positivo, con un 4 a 1, però poi, diciamo, come mio solito, mi faccio recuperare, quindi questa è una bella, sforbriciata con un 4 a 2, e, niente, però, Iceman ci crede, e, subito, Cassano smarca, con un tunnel, per Ibrahimovic, che non sbaglia da lì davanti, anche, il Milan, va usato con una punta, io spesso ho giocato con Ibra e Pato come punte, però, giocando con una punta come Ibra, sfonda tutti, davvero, però il Real Madrid ci crede, ed eccolo qui con Benzema, che ancora non sbaglia, Benzema è qualcosa di favoloso, con cui dicevamo sul Milan, giocate con Pato e Robinho sulle fasce, e Cassano dietro, un 4-2-3-1, qui da un fallonato per il fuorigioco, si ritrova a segnare Benzema, in un modo un po' affortuito, e quindi 5 a 4, sì, 5 a 4, Iceman aveva un po' paura, però, Boateng parte da centrocampo, e, non so cosa passa, se scarta anche due, di nuovo nell'aria, e segnala con un sinistro, mentre cade, e niente, quindi, manca un punto, per la promozione, Sirius Sir Iceman, se non ci riesco, penso che, leggerete sul giornale, che sono morto, vabbè, ci vediamo al prossimo commento, ditemi se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, non lo farò più, non vi preoccupate, ci vediamo al prossimo video, di Codo di FIFA, fatemi sapere, e, se non vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, che è piaciuto, Grazie a tutti